Il Presidente vuole, ed è apprezzabilissimo, essere un po' una guida, ma non perché è superiore, ma una guida per tutte le società dell'Abruzzo. Quindi voler potenziare soprattutto i rapporti, voler consolidare quelli esistenti e scambiare tutte le esperienze, sia in ambito tecnico che in ambito organizzativo e logistico, con le società del ruolo. A questo proposito cercheremo di attuare delle iniziative per avere uno scambio e un confronto con loro. Il programma prevede una linea guida unica, quindi una società che partecipa a tanti campionati, dalla Serie A ai primi calci. Questo è un po' lo slogan che vogliamo portare avanti. Non ci sono settori giovanili a parte, oppure primavera, allievi, eccetera. Ma è un'unica società che logicamente si divide e si confronta con le varie realtà in tanti campionati. La stessa importanza dei primi calci ce l'ha la primavera, logicamente con una visibilità differente. Questo è il primo obiettivo. Quindi creare al nostro interno un percorso di formazione, prima per gli adulti, quindi tecnici, preparatori, insomma tutte le figure che concorrono alla crescita del ragazzo, che trasferiscano le proprie competenze nel miglior modo possibile ai ragazzi. Quindi un percorso formativo che abbracci l'area tecnica, l'area comportamentale, caratteriale, insomma di relazione. Grazie. Grazie.